Oggi se vuoi un nuovo video, sono tornati nel secondo episodio di Minecraft Si sono lasciati qua così com'era E dai come state vedendo adesso in questo momento, soprattutto la mia webcam entry qua sotto Sono messo molte cose, sì, l'ho fatto, dato che tanto sono andata da scuola, non ho da fare Mi ho approfittato per sistemare qua le impostazioni delle live Le uso sia per la live sia per fare i video Però adesso io fra l'altro ho visto un bel villaggio Quindi adesso andiamo subito lì Qua c'è una bella pecorella Dove sei? Le zucche, prendiamole, le potranno servire Uh, una bella mela Come le c'è per l'inventario? Perché sì, sono da pad Ok, allora le zucche le metto Ho 40 di vetro e che me ne faccio di 40 di vetro? Parla casetta, ho detto l'altro usaggio? Sì, prima che non mi ricordavo, cioè non mi sono ricordato Andiamo qua del lei, tutto può servire in questo mondo Che adesso andiamo qua a esplorare Vediamo allora qua Apri la sveglia a votare Il let lo prendiamo Prima che si vomita Eh, ragazzi Pad da tastiera state Perché non ho visto, Luca Anzi, è stato per questa interruzione Ho proprio il gitario da pad Per mettere il pad sotto Per farvi vedere i tasti Sto cliccavo Prima che non mi so le tasti Mi voglio gitarre la tastiera Ciao Queste qua io le prendo Da casa servono Magari, non si sa Si spacca anche Ciaiii Intanto ricordo di scrivere il terreno La campanina Lascerò mai mi piace Nel video del mio nono Tutti i vostri amici Ed io aspetto in live Tutti martedì e giovedì Per ragazzi Però mai nemmeno ci sono stati Per vari problemi Però adesso tornerò Più carico che mai In live Su YouTube Allora, facciamo una bella cosetta Questo lo mettiamo nel cance Il fiore Non me ne faccio nulla Vediamo qua lo da c'è Un altro letto Perché prima No, dammi lascio Perché prendo il letto Questo cosperto Che mi serve Non si sa mai E che cosa servono I cosi dei villageri Basta letti Ok Mangiamoci Una bella mela Vediamo qua Non c'è nulla Qua cosa c'è Qua cosa sto letto qua Me lo prendo La campanella Qua delle vatte Sembra Io sto facendo Razia di tutto Oh, cosa è questo ragazzi Che è C'è una chest Orologio Paladotto Tocca di velluta E non stabilità E efficienza Questa qua La qua distrugge tutto C'era il blocco Di Non mi ricordo Cos'è Cosa è E se la qua Non l'ho mai vista Ah, un blocco d'oro Se la posso prendere Col piccone di 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 Pietra Secondo me la posso prendere Col piccone di pietra Il blocco d'oro Se posso Vediamo come fa Mi Mi L'ho già distrutta Però è velocissima Ho preso Uno stack di terra Poi c'è una bella Rotta Meglio direi Non scendere Ok Allora come pala È molto molto buona È buona che non dura nulla Te l'ho già rotta Che ci fai lì sopra Lì sotto Vai Sto facendo le razze Di tutto 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 Dobbiamo fottere Tutto Vai vai Ok 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 Comunque ricordi Anche di passare Il live Perché almeno Mi dite un vostro Parere Diciamo Su Come Sistemato Le cose Se vi piace Così Qualse Parere mi date Va bene Anche se Non mi interessa Perché se Mi dite Se non va bene Io migliorerò Intanto Stiamo per arrivare A mille stretti Ci stiamo avvicinando Adesso non so Quanto siamo Di preciso Però Stiamo molto avvicinando E mi raccomando Arriviamoci prima possibile Ma se cliccate Un tasto rosso Molto molto grande Stribiti Cioè Non ci mettete tanto Dai Non fate Non fate male educati Il letto è giallo Posso poi lo voglio a casa Che tasso Perché sono Ah Non c'è nulla Bene Io sto morendo di fame C'è nel giorno C'è nella vita reale Ma non c'è nulla In questo villaggio Si Marboni Mi hai tornato Guarda c'ho Trovato un altro Ferro E me lo prendo Ah ho del carbone Spero che ce l'hanno Sticco qua Bene Possiamo farci un po' di torcia Non va sull'altra mano E vabbè Ok Torcia messa Almeno valutata Si vede Io dobbiamo iniziare a prendere Qualche materiale Tipo carbone Almeno ci possiamo iniziare A fare qualche torcia Potremmo iniziare a cuocere Poi c'è la faccia Nella fornace Posso iniziare a fare Molte molte cose Ok Siamo messi Bene Diciamo Qua Tap Altro Call Lo Pighiamo Subbato Deve usare anche Un blocchettino Di ferro Se posso fare Il piccone di ferro Che non sarebbe Una brutta cosa Ho due blocchi Mi serve il terzo Vai vai Comunque Vi ricordo ancora Di istruzionare La campanina L'avrò detto 42 volte Vi chiedo la 43esima volta Allora Adesso Non vorrei Morire Subito Nel secondo episodio Mi sa che Prendo un po' di carbone Poi dovete trovare Un blocchetto Di ferro Prima puoi ricordare Nel commento Di dirvi se La blocchola di oro Che abbiamo trovato prima Si può spaccare Col piccone di pietra Perché almeno Che adesso non trovo Del ferro Sennò Quanto ferro Quanto carbone c'è 44 Eccolo qua Ferro 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 Ero tu cazzo Acquemiero Ok Dammi ferro Torniamo Su Infrogeta Torniamo a casa Un cavallo Mangiamo del pane Ok Va bene Allora Insieme a sistemare Allora Il giallo Questo lo spacchi Metti questo Qua mettiamo Quattro blocchi Per il piccione Questo piccione qua Ce lo teniamo Lasci qua Vabbè A terra Il vetro Che ci serve Quattura Lezzure Le metti qua Questo lo tieni Questo metti qua Vorrei sapere Tu dove sei passata E chi ha permesso Di passare Da lì Se un giorno Me lo vorresti dire La spada Quanto No Due blocchi Uno Due Uno Tre Mese La campana Di vacca Quanto Quanto Allora Lanziamo A traftare Una bella Spada Il torcico Ok Un bel piccione Allora Spero che il prossimo video Poi se mi piace Vi sono tutti i vostri amici Per vedere il terzo Episodio Di Minecraft E noi ci vediamo Tra una prossima live O un prossimo video Bella Bella